L'Europa è sicuramente in una situazione difficile, ciò di cui abbiamo bisogno sono dei leader in tutti i paesi dell'Unione che abbiano un grande senso di responsabilità. La mia impressione è che l'Italia inizialmente fosse una delle chiavi di volta della stabilità europea, mentre oggi l'Italia non gioca nessun ruolo in Europa e il governo italiano rimane fuori dai processi decisionali. La decisione in Europa oggi vengono prese fra Berlino e Parigi e secondo me è sbagliato. Questo direttorio franco tedesco dell'Unione non va nel senso della comunità e non è nell'interesse dei paesi membri. Ma l'Italia non gioca nessun ruolo ed è un peccato perché l'Europa ha bisogno dell'Italia e questo riguarda il primo ministro italiano. In nessun altro paese del mondo un primo ministro con dei comportamenti come quelli del signor Berlusconi sopravviverebbe per 5 minuti. C'è una situazione strana in questo paese. Quindi è una situazione strana in questo paese.